Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, oggi compie 84 anni Silvio Berlusconi. La Rubrica Rosso Nera vuole dedicargli un video, un video prendo spunto da uno servizio di Sky di qualche anno fa, dove in 16 tappe ripercorriamo un po' i 16 momenti più importanti, più gloriosi della sua gestione. Una gestione trentennale, una gestione ricca di successi, ricchi di storia. E se il Milan è conosciuto e se il Milan ha vinto tutto questo, ecco il merito principale va dato a Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi che dopo 30 anni, 9 mesi e 3 giorni di presidenza, il primo giorno è stato il 20 febbraio del 1986, Berlusconi ha vinto con il Milan il suo 29esimo trofeo da presidente, che ne fa il più vincente, come rimarca sempre lui, della storia insieme a Santiago Bernabéu, un numero 1 del Real Madrid, che è stato presidente del Real Madrid dal 1943 al 1978. Possiamo definire l'epopea di Berlusconi nata dallo scudetto di Sacchi alla Supercoppa di Montella. Riviviamo quindi insieme, attraverso questo piccolo video, i trofei, i successi più importanti del trentennio berlusconiano e della gestione Berlusconi-Gagliani. Il primo successo di Berlusconi presidente è allo scudetto dell'87-88, al termine di un emozionante testa a testa col Napoli di Maradona. Il Milan, guidato dal profeta Arrigo Sacchi, conquista l'undicesimo titolo della storia rosso-nera. Rivadiamo, prendiamo spunto da un servizio molto bello che gli fece Sky qualche anno fa. Secondo, terzo momento importante, il Milan di Berlusconi è la prima squadra ad iscriversi nell'albo d'oro della Supercoppa italiana, vinta nel giugno del 1989 dopo aver battuto la Sampdoria di Vialli per 3-1. Storia vincente che va avanti perché il ciclo di vincente del Milan prosegue anche in Europa. Il Camp Nou, nel maggio del 1989, i rosso-neri vincono la Coppa dei Campioni per la terza volta nella loro storia, a vent'anni di distanza all'ultima. Nella finale di Barcellona, l'Estava a Bucharest è annientata con un netto 4-0. Il Milan di Sacchi e Berlusconi non smette di stupire, non smette di convincere e vincere. I due anni successivi, infatti, mette in bacheca un'altra Coppa Campioni, due intercontinentali e altre intatte Supercoppe europee. Quindi un Milan sempre più vincente. Dopo Sacchi, come tutti ricordano, arriva un giovane, un giovanissimo Fabio Capello. Berlusconi, ancora una volta ragione, arrivano quattro scudati consecutivi e la Coppa dei Campioni vinta nel 1994 con il Dream Team del Barcellona, distrutto in finale anche lui per 4-0. Un Milan molto forte, il Milan degli invincibili, un'armata guidata in campo da Fabio Capello e dietro la scrivania dell'inseparabile duo, che sta facendo sognare il Monza, Gagliani-Berlusconi. Nell'era Cappelliana, 5 anni, dal 91 al 96, arrivano anche tre Supercoppe italiane e una Supercoppa europea. Uno dei trionfi più inattesi è lo scudetto del 98-99 con la guida Alberto Zaccheroni. Infatti, con Alberto Zaccheroni, il Milan compie una grandissima rimonta sulla Lazio grazie anche ai consigli tecnici del suo presidente, che convinse Zac, come testimoniato da entrambi i soggetti, a far giocare Boban trequartista dietro le punte. L'arrivo di Carlo Ancelotti poi segna un'altra epoca vincente. Infatti sulla panchina rossonera coincide con un altro straordinario ciclo e del 2003 è l'unico trofeo di Berlusconi presidente in Coppa Italia. Quindi una Coppa in Milan vinceva Coppe europee. Pochi giorni prima il club aveva fatto posto in bacheca per la sesta Champions vinta nella finale di Manchester contro la Juventus. Una finale che noi di Rubrica Rossonera siamo veramente innamorati con la finale. Una finale veramente epica, una finale storica, una finale che ancora adesso ci rende e ci veramente tanto tanto orgoglio. Ancelotti riporta al Milan anche allo Scudetto, vinto nella stagione 2003-2004 procedendo in classifica Roma, Juventus e Inter. Infatti è il diciassettesimo titolo per il club rosso-nero. Dopo la drammatica finale persa a Istanbul, però il Milan, grazie al presidente Berlusconi, anche al presidente Berlusconi in investimenti fatti, il Milan si prende la rivincita nel 2007 con una squadra un pochino più matura ad Atene battendo il Liverpool e conquista la settima Champions League della sua storia. Champions League grazie ai gol di Pippo Inzaghi. Berlusconi e il suo Milan quindi salgono anche sul tetto del mondo, 17 anni dopo l'ultima volta, vincendo il mondiale per club contro il Boca Juniors, confitto in finale grazie a Kakai Inzaghi per 4-2. L'ultimo scudetto, rosso-nero, è datato 2011 con in panchina Massimiliano Allegri e in campo gente come Ibrahimovic, Sedorf, Nesta, Thiago Silva e tanti altri campioni. Il Milan va avanti a vincere e prima del trionfo di Doha il Milan alzava un trofeo dall'agosto 2011 quando vinse la Supercoppa italiana battendo l'Inter in finale in Cina, l'Inter per 2-1. E poi c'è l'ultimo, il trofeo, l'ultimo vinto, ecco infine il 29esimo trofeo dell'epoca Berlusconi, forse il meno atteso, quello in Supercoppa 2016 contro la Juve. Il bilancio parla di 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 5 Champions League, 3 mondiali per club, 5 Supercoppe europee e 7 Supercoppe italiane. Un Milan giovane e italiano come nei sogni del suo presidente con il successo di Doha è entrato definitivamente nella leggenda del calcio mondiale. E noi non possiamo altro che dirti solo grazie. Grazie e tanti auguri Silvio.